1.000 e vedo. Progetto di colore. Ho un asso sui 10. 3.000 dollari. 3.000 per giocare. 3.000 dollari. Io non credo che passerà. No, quello non ha due regine. Tira a fare colore. Puntata ragionevole. Tira a scala reale. Chi la impugna non può più ritirarsi. Dai le carte. 9 di quadri. Progetto di colore. Progetto di scala reale. Asso di picche. Due coppie. Parlano le coppie. Io dico parola. 1.000 dollari. Ha fatto colore. Vedo i 1.000 e rilancio... ...tutto quello che ho davanti. 3.500. L'asso è giunto a proposito, eh. vedo i 3.500 e rilancio di... ...5.000. Mio Dio, sotto alfante. Non può avere ilfante. Sotto alfante di quadri, non una regina. No. Sta solo blefando. Sì, sta blefando, vero? È evidente. Non può avere ilfante di Kid il piatto. Sì. Kid l'ha in pugno. Kid l'ha in pugno? Sì, sì. Kid l'ha in pugno. Lo in pugno. Ho in pugno il campione. 5.000 per giocare, Kid. Accetto anche un pagherò. I soldi li trovo. Certo, lo so. Vedo. Lei mi deve 5.000 Kid. Giochi ancora, Kid? No. Ho finito. Hai rilanciato con solo tre carte a colore. Il che dimostra che spesso basta una... ...mossa sbagliata al momento giusto. È tutto qui, veramente. È come nella vita. Lei è in gamba, Kid. Ma finché ci sono io, per lei c'è il secondo posto. Non le resta che adattarsi all'idea. No. No.